Domenica 14 aprile a Torrita di Siena, attorno alla giornata del disabile, testo organizzato dall'associazione Leroy Rumoros. Presente alla manifestazione la banda di Torrita alla samba ed il gruppo sbandieratori e tamburini di Torrita di Siena, che hanno preso parte al corteo per le vie principali di Torrita, fino ad arrivare in piazza Don Giovanni Furti, dove hanno mostrato loro presenze. La banda di Torrita di Siena, il gruppo sbandieratori e tamburini di Torrita di Siena, le varie associazioni presenti a questa manifestazione, l'Affas di Lucca, di Prato, la registrazione comunale di Torrita, di Sina Monca e altre situazioni. La banda di Torrita di Siena, la registrazione comunale di Torrita di Siena, Siena, la registrazione comunale di Torrita di Siena, la registrazione comunale di Torrita di Siena, Siena, la registrazione comunale di Torrita di 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 Siena, la registrazione comunale di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.